8mm è presentato da Arte Air Studios, i parrucchieri, così come tu ti vuoi. 8mm è stato presentato da Arte Air Studios, i parrucchieri, così come tu ti vuoi. Facciamo cabaret, un appuntamento. Arte Air Studios, i parrucchieri, così come tu ti vuoi. Facciamo cabaret, un appuntamento. Arte Air Studios, i parrucchieri, così come tu ti vuoi. La situazione è questa. Lui vuole conquistare lei, lei vuole conquistare lui. Hanno fatto un patto, si aiuteranno a vicenda per conquistarli. Prima mossa, cambiare pettinatura. Questo primo passo nella strategia di conquista è sotto la supervisione della ragazza. Decide lei dove andare e sceglie un salone Arte Air Studios, uno dei 150 Arte Air Studios in Italia. Li seguirò per vedere come risolveranno il loro problema, specialmente lui che non ha l'aria troppo convinta. Ma gli Arte Air Studios sono saloni unisex, specialmente se si vuole osare un po'. Di sicuro gli si presentano dei vantaggi. I consulenti di bellezza Arte Air Studios sono sempre attenti, pronti a cogliere le novità in arrivo dal mondo della moda. Colorazioni più nuove e trasgressive, colpi di sole, barre di colore e poi permanente, messa in piega, stiratura e tutto quello che serve per la bellezza e la salute dei capelli. Incluso un semplice taglio. Quello che nei 150 Arte Air Studios non cambia mai è la tensione ai desideri di ognuno e la capacità di esaudirli offrendo soluzioni specifiche e personalizzate. Specialmente se in gioco c'è una grande storia d'amore. Arte Air Studios, così come tu ti vuoi. C'è uno dei miei parrucchieri che devo subito tornare di là? Moicomi qua, su su, rivitalizziamo sto capello morto. Ma lei chi è? È uno dei parrucchieri Arte Air Studios? Ma come non mi conosce? Sono Carmelo, l'amico del capello. Sono qui per proporle le pettinature del futuro. C'ha presente il viso? Mo' lo pettino io? Ah, allora siamo a posto. Dai, faccia qualcosa. Allora, vediamo un po' il visino. Visino di qua, visino di qua. Lei mi sembra un tipo un po' esigente, un tipo rompifone. Oh! Non si preoccupi, adesso io rivendo vivo questo capello. Facciamo tutto il ricciolone davanti con la sfumatura alta di euro. Ma cosa fa? Ah, allora le faccio una mia creazione. Guardi, la pettinatura pirotecnica che ho intitolato Notte di San Silvestro. Silvestro, ma ecco qua. Questo lo infiliamo tra i capelli e in un attimo lei avrà la testa che è una bluva. Ma lei è pazzo! Lei non è neanche l'ombra di un parrucchiere professionista. Io mi fido solo dei consulenti di bellezza Arte Air Studio. Perché sono sempre aggiornati sulle tendenze più attuali e sanno consigliarmi le soluzioni più vicine al mio modo di essere. Dei veri maestri che oltre alla bellezza hanno a cuore anche la salute dei miei capelli. E questo è molto importante. Per esempio, entriamo in uno dei 150 saloni Arte Air Studios e assistiamo ad una trasformazione straordinaria. Vuoi un look più deciso, più personalità e voilà! Uno styling moderno, l'uso sapiente del colore solo su alcune ciocche. Ed eccoti così come tu ti vuoi. Bellissima! Ha capito? Sì, ho capito. Adesso venga che le cambio il colore. Visto? Ci si può fidare solo degli Arte Air Studios. Solo lì puoi diventare così come tu ti vuoi. Ricordate questo marchio e cercate il salone Arte Air Studios più vicino a voi. Passo veloce, un certo nervosismo, vestito formale. I tre fili della donna per bene. Un filo di trucco, un filo di tacco, un filo di perle. In questa ragazza tutto fa pensare che sia diretta a un colloquio di lavoro. Perché la messa in scena per il colloquio sia perfetta, le manca ancora una cosa. Andare dal parrucchiere. Ha deciso di andare in un salone Arte Air Studios, uno dei 150 in Italia. Sia per darsi l'ultimo tocco che per rilassarsi, coccolata dai consulenti di bellezza dell'Arte Air Studios. La decisione è difficile. Non sa chi si troverà di fronte al colloquio di lavoro. Non sa scegliere il tipo deciso o quello timido, il tipo classico o quello cattivo. Non sa scegliere quello che piace a lei o quello che lei immagina possa andar bene ad un colloquio. Alla fine, sceglie quello che piace a lei. Ora non la resta che lasciar fare, perché i parrucchieri Arte Air Studios, dei veri e propri consulenti di bellezza, sono sempre pronti a cogliere le novità e gli stimoli in arrivo dal mondo della moda. Nei saloni Arte Air Studios, i desideri si realizzano sempre. Forse lei non verrà assunta, o forse sì, ma di sicuro si è divertita, con una piccola trasgressione fatta di lampi di colore blu. Presto, presto, che devo tornare in scena! Dov'è il mio parrucchiere? Ma sono qui, car Antonella, sono qui che ci penso io. Ma lei è un parrucchiere Arte Air Studios? Ma come? Ma sono Carmelo, l'amico del cappello. Ma guarda che cappello stanco, sbadiglia, contagioso, ci penso io. Ma la smetta! Guardi, qui bisogna scoprire le cause alla radice, vediamo, vediamo. Ma guarda questo burbo che occhiaia che c'ha! Ma ce l'ho io il rimedio, sai cosa facciamo? Facciamo una bella rasata qua in mezzo, per così, così i capelli vanno via di giochini, via che corrono davanti indietro. Ma finisca un po'! Ah sì, le do anche in un omaggio. Ecco qui, la bella sveglietta per cronometrare i tempi. Vada via criminale a Sastino! Mamma mia, lei non è neanche l'ombra di un parrucchiere professionista. Io mi fido solo dei consulenti di bellezza Arte Air Studios, perché sono sempre aggiornati sulle tendenze più attuali e sanno consigliarmi le soluzioni più vicine al mio modo di essere. Sono dei veri maestri, che oltre alla bellezza hanno a cuore anche la salute dei miei capelli e questo è terribilmente importante. Entra con fiducia in uno dei 150 saloni Arte Air Studios e scoprirai come è facile trovare il look giusto per te. Affidati ai parrucchieri Arte Air Studios, sapranno interpretare ogni tuo desiderio con le tecniche più innovative e di prodotti più affidabili. Guarda che risultato straordinario, è facile cambiare in meglio con Arte Air Studios. Capito? Sì che ho capito, adesso ne faccio un bel taglio che si porta tanto in miniera, bello scolpito. Ah, visto? Ci si può fidare solo degli Arte Air Studios. Solo lì puoi diventare così come tu ti vuoi. Ricorda questo marchio e cerca il salone Arte Air Studios più vicino a te. Ecco Anna e Chiara, le protagoniste della nostra storia di oggi. Non abbiate paura, non sempre sono così cattive, ma stasera vogliono stupire i loro ignari fidanzati. Quello che ancora manca è un intervento esagerato sulle loro teste e per stupire hanno deciso di affidarsi alle capacità inventive dei parrucchieri Arte Air Studios. In Italia ci sono 150 Arte Air Studios, saloni dove la preparazione e la creatività sono frutto di continua ricerca e aggiornamento. I consulenti di bellezza Arte Air Studios sono sempre pronti a cogliere le novità e gli stimoli in arrivo dal mondo della moda e sanno interpretare tutti i desideri, anche quelli di chi si è messa in testa di lasciare il fidanzato a bocca aperta, come Anna e Chiara. Con gli Arte Air Studios tutte le idee possono prendere forma, soluzioni nuove e trasgressive per creare con fantasia e professionalità uno stile unico per ogni donna, esaltando la bellezza dei capelli ma con grande attenzione alla loro salute. Nei saloni Arte Air Studios i sogni si realizzano sempre. Ora possono tornare tranquille dai loro fidanzati. Arte Air Studios, così come tutti vuole. Presto che devo tornare in scena. Dov'è il mio parrucchiere? Morivo in un lampo. Eccomi qui, lei ha bisogno di me. Ma lei chi è? È un parrucchiere Arte Air Studios? Ma sono Carmelo, l'amico del capello. Vuole una pettinatura moderna, un po' trendy, ma ci penso io. Vabbè, faccia in fretta. Allora, vediamo subito di valorizzare questo bel visino da birba. Un paio di baffi? Ma... Oh, no, scherziamo. Allora, qui sulla destra li facciamo lunghi, 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 mentre qui a sinistra li tagliamo proprio tutti corti, rasati, proprio a zero. Poi facciamo un bel riportino che torna di moda quest'anno. Oh, guardi, c'è anche il mio solumiere. Senta, non di caffesserie, io non farò mai una cosa del genere. Bene, allora ci penso io. Allora, diamo un po' di volume a questi capelli. Due, otto davanti, uno e nove dietro. Oh, ma lei è completamente suonato. Mamma mia, lei non è neanche l'ombra di un parrucchiere. Io mi fido solo dei consulenti di bellezza Art Hair Studios perché sono sempre aggiornati sulle tendenze più attuali e sanno consigliarmi le soluzioni più vicine al mio modo di essere. Sì, sono dei veri maestri che oltre alla bellezza hanno a cuore anche la salute dei miei capelli e questo è assolutamente importante. Soprattutto questa sera che parliamo di permanente, una grande riscoperta, specialmente fra le più giovani. Oggi esistono prodotti veramente eccezionali e gli specialisti Art Hair Studios sapranno donarvi tutto il volume e sostegno che desiderate. Oppure, al contrario, se i vostri capelli sono indomabili e li vorreste lisci come un orientale, Art Hair Studios ha la risposta giusta. Sempre! Ha capito? Sì, ho capito! Venga che adesso le faccio la permanente! Mmm! Visto? Ci si può affidare solo degli Art Hair Studios! Solo lì puoi diventare così come tu ti vuoi. Ricorda questo marchio e cerchi il salone Art Hair Studios più vicino a te. Sono molto amiche e cercano di farsi coraggio l'una con l'altra. Lei è Marta e lei è Elena. Stasera escono da sole, libere, senza fidanzati, loro due e hanno deciso di esagerare, di cambiare faccia, di trasformarsi. Per questo hanno deciso di entrare in un salone Art Hair Studios, uno dei 150 sparsi in tutta Italia. Hanno sempre desiderato dare una svolta alle loro teste. In fondo, anche se non sembra, sono molto vanituse. Sono curiosa di vedere come cambieranno queste due timide ragazze, se davvero avranno il coraggio di osare o se cambieranno idea. Ma hanno deciso, stasera nessuno le deve riconoscere, devono stupire e si affidano ai consulenti di bellezza Art Hair Studios. Nei 150 Art Hair Studios i desideri vengono sempre esauditi, anche i più audaci e strani, come quelli di Marta ed Elena. Il loro obiettivo è stato raggiunto, stasera nessuno le riconoscerà. Hanno cambiato taglio e colore. Gli Art Hair Studios sono dei veri e propri consulenti di bellezza che sanno proporre il meglio in arrivo dal mondo della moda, con soluzioni personalizzate per il modo di sentire e di essere di ogni donna. Ecco le due protagoniste della nostra storia. Lei è la figlia e lei è la mamma. Il loro problema è che non sanno come pettinarsi per andare a un matrimonio. La mia indagine sulla bellezza e sulle tendenze comincia proprio da qui, da una ragazza, da sua madre e dall'Art Hair Studios e più precisamente da uno dei 150 saloni Art Hair Studios presenti in Italia. Sono curiosa di sapere come le due risolveranno il loro problema. Scegliere un'acconciatura non dovrebbe essere difficile, però se si deve fare da testimone la cosa diventa più complicata e l'ansia contagia anche la mamma. Ma i consulenti di bellezza Art Hair Studios sono pronti ad affrontare emergenze come questa. Basta affidarsi alle loro cure. Le collezioni sono continuamente aggiornate, frutto dello studio stilistico e delle tendenze moda. Styling, colore e permanente. Ecco le soluzioni di oggi perché i consulenti di bellezza Art Hair Studios sono pronti a capire sia le esigenze di una ragazza emozionata sia quelle della mamma che all'inizio era così timida quasi convinta di essere fuori posto. Art Hair Studios così come tu ti vuoi. Presto, presto che devo tornare in scena. Dov'è il mio parrucchiero? Ecco qui, sono Carmelo il pronto soccorso del capello. Dica quindici. Quindici? Ma lei è un parrucchiere Art Hair Studios? Guardi, io sono il primario. Vedrà che nelle mie mani lei diventerà un'altra. Userò per lei il look che ho usato per mia mamma, il famoso mamma look. Oh, come si permette? Allora, qui facciamo una bella pettinatura per le serate di gala che io ho chiamato Gala Pagos. Prima cosa bisogna spedire gli inviti e poi vanno a preparare un bel buffet e poi ci vuole la musica. Che ne dice di un bel gruppo? Evi Metal vedrà che è successo. Sì, vabbè, ma dei capelli cosa mi dice? Benissimo, allora, qui avrei pensato di mettere un bel puntale tutto alto 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 qui intorno delle belle palline colorate e poi tutto del nastro argentato vedrà poi che dopo come conciata per le feste. Sparisca, lei è veramente pazzo. Mamma mia, non è nemmeno l'ombra di un professionista. Eh sì, io mi fido solo dei consulenti di bellezza Art Hair Studios perché sono sempre aggiornati sulle tendenze più attuali e sanno consigliarmi le soluzioni più vicine al mio modo di essere. Dei veri maestri che oltre alla bellezza hanno a cuore anche la salute dei miei capelli e questo è veramente importante. questa è la stagione del colore nei 150 saloni Art Hair Studios la colorazione crea un loop di impatto personalizzato e di tendenza può riguardare solo alcune ciocche dai colpi di sole alle barre di colore sino alla colorazione totale con gli specialisti Art Hair Studios il risultato è garantito. Capito? Sì che ho capito adesso venga che le do due bei colpi di sole. Visto? ci si può fidare solo degli Art Hair Studios solo lì tu puoi diventare così come tu ti vuoi. Ricorda questo marchio e cerca il salone Art Hair Studios più vicino a te. Adesso siamo arrivati alla fine e ho voglia di rivedere tutte le immagini girate tutte le storie raccontate storie diverse tra loro in comune solo gli Art Hair Studios i 150 saloni di parrucchiere sparsi in tutta Italia. Rivedo madre e figlia invitate a un matrimonio in agitazione perché la figlia è testimone. Rivedo i due amici amico e amica in un Art Hair Studios perché lei lo deve aiutare a conquistare un'altra mentre lui deve ricambiarle il favore con il suo migliore amico. E poi rivedo quelle due che per una sera volevano esagerare. le altre due amiche che volevano andare in vacanza con una faccia diversa la ragazza che andava ad un colloquio di lavoro le due amiche che volevano stupire i loro fidanzati lasciarli a bocca aperta e poi i due fidanzati che volevano sorprendersi a vicenda. Tutti erano entrati in un Art Hair Studios con idee diverse tutti hanno trovato la loro soluzione perché le collezioni degli Art Hair Studios sono continuamente aggiornate ogni stagione porta grandi novità frutto della curiosità dello scambio di idee tra tutti i 150 saloni e della preparazione dei consulenti di bellezza pronti a cogliere gli stimoli e le tendenze in arrivo dal mondo della moda. A questo punto tocca a me sono io che vado in un Art Hair Studios sono io che ho voglia di cambiare. Art Hair Studios così come tu ti vuoi.